Tutto Sport Taranto.com, questa sera con Alessandro Raimondo, titolare della Corim, sponsor principale della città di Taranto, calcio a 5 femminile. Innanzitutto, come nasce quest'idea di sposare questo progetto di futsal femminile che ormai è duraturo, sono tre anni che siete lo sponsor principale? Buonasera innanzitutto, è nata dallo sport in sé per sé e dal fatto che la squadra era femminile, le dirò, ci ha divertito questa novità perché il calcio e lo sport è chiaramente nazionale, però visto il femminile ha anche una bella impronta e un diverso approccio. Poi le soddisfazioni sono arrivate, quindi chiaramente si continua nel percorso. Siamo soddisfatti di come la squadra sta andando, quest'anno è un po' differente. Sono stati tre anni di crescita, è giusto dirlo, la vittoria, anche se attraverso il ripescaggio, l'accesso alla Serie A nazionale, la 2 in questa stagione, che inizialmente sembrava molto complicata, ma che nelle ultime settimane ha mostrato il lato migliore della Corim e città di Taranto, la salvezza sembra ancora alla portata. Sì, è quello sulla quale il mister e i dirigenti si stanno comunque sia concentrando, ovvero l'obiettivo di salvarci, che sembra abbastanza alla portata, voglio dire. Per il resto, l'anno prossimo sicuramente saremmo meglio organizzati. Visto che questa intervista andrà sulla pagina ufficiale delle città di Taranto Calcio 5 femminile, facciamo un po' di pubblicità alla Corim, di cosa vi occupate e da quanto tempo siete sul territorio? Noi siamo sul territorio da diversi anni, però con la Corim SRL sono più di dieci anni, ci occupiamo di assistenza tecnica presso grandi clienti e quindi, nonostante viviamo in una realtà abbastanza complessa per non entrare in polemiche, dato che stiamo anche sotto elezioni. Alzare una sera cinesca oggi a Taranto è veramente complicato, è veramente complicato. Ci crediamo, è così come nello sport anche nella vita, ti devi impegnare e devi stare sempre sul pezzo. E quindi cerchiamo comunque sia di dare lustro anche alla nostra città con lavori fatti fuori, perché comunque qui diciamo che si vive e si va a lavorare da un'altra parte. Questa è la realtà. Grazie e complimenti per aver investito nello sport tarantino e complimenti per la scelta, per aver sposato il progetto Città di Taranto. Grazie a voi che seguite la squadra. E un in bocca al lupo alle ragazze. Grazie.